Siamo al punto che ogni partita per noi è importantissima. Veniamo da due partite in cui siamo riusciti a fare risultato e dobbiamo continuare perché la classifica ce lo impone. I ragazzi si sono allenati in maniera positiva, perciò io da quel punto di vista sono tranquillo. Sono tranquillo che faremo la partita che dobbiamo fare. A me interessa la squadra, il resto è di conseguenza i risultati, io guardo l'aspetto della squadra, l'aspetto del campo. La partita di verità è quella con la San Bernardese, io guardo partita per partita. Noi siamo messi in una condizione che non possiamo sbagliare nessuna partita, perché se dovessimo sbagliare la partita con la San Bernardese probabilmente la partita con l'Ancona avrebbe un aspetto diverso. Noi dobbiamo, i ragazzi lo sanno, siamo in una condizione di classifica per cui oggi sbagliare una partita così poche giornate dalla fine sarebbe deleterio. Perciò la mentalità è quella di guardare partita per partita. Che avversario si aspetta? È un avversario importante, perché è stato capace dopo una lieve crisi di tre risultati negativi di fare in quattro partite, mi sembra che ha fatto dieci punti. È una squadra che ha il capocannoniere del campionato, di conseguenza sicuramente col morale alto. Hanno lì a portata di mano posizioni importanti di classifica. Vedo che già stanno programmando un futuro prossimo, di conseguenza penso che abbiano programmi importanti e non vogliono sbagliare quest'anno. Di conseguenza mi aspetto una partita molto, ma molto difficile. Il discorso è sempre quello, se si prendono pochi gol indubbiamente si tiene la partita in equilibrio, probabilmente in questo momento occasioni da gol, io vedo un pochettino tutte le partite, non è che anche le altre squadre ne creano molte, molte si preoccupano di concedere poco. Io penso che la via giusta sia quella. Dietro abbiamo concesso poco, stiamo cercando, a parte la partita con il Gubbio, torno a ripetere che è un episodio a parte, perché indubbiamente fare sei gol in una partita è cosa molto, ma molto rara. Però a me interessa il fatto che anche fuori casa siamo arrivati 4-5 volte. Piano piano, forse dovevamo sbrigarci un attimino prima, però piano piano speriamo di continuare su quella strada. Io dico che questa squadra ha le possibilità per salvarsi direttamente. Dipende solo ed esclusivamente da noi. Piano piano, forse dovevamo sbrigarci un attimino.